lorenzo pisarra il responsabile flotte usato di nissan italia con il quale in questa puntata di flip restart vediamo un po il punto della situazione del brand e soprattutto iniziamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2023 ben trovato dottor pisarra buongiorno grazie allora partiamo facciamo un passo indietro quindi partiamo da quelli che sono stati i risultati di nissan nel 2022 con un riferimento specifico alle flotte aziendali si beh tanto iniziamo col dire che il 2022 si chiude con un segnale di ottimismo legato al fatto che vediamo una tendenza di crescita dagli ultimi cinque mesi dell'anno tendenza di crescita che è manifestata nel mercato e in particolare nel mondo del noleggio a lungo termine canale che dobbiamo registrare una crescita di circa il 16 per cento ed è un canale anche che oggi rappresenta una mix del 20 per cento all'interno del mercato complessivo all'interno di questo mercato parlo del mercato globale e poi anche del mercato flotte non possiamo non notare comunque due grandi macro tendenze queste macro tendenze sono legate all'elettrificazione delle motorizzazioni presenti sul mercato ed anche alla crossoverizzazione cioè la scelta di carrozzerie crossover di vetture da parte di clienti finali siano essi clienti privati piuttosto che eh clienti business ed effettivamente queste tendenze sono confermate anche eh nel mondo delle flotte mh e dobbiamo far presente che oggi eh circa una vettura su due immatricolata è una vettura elettrificata e ancor più lo è eh guardando le vetture mh crossover a noi questi due segnali ovviamente fanno ben sperare perché sono esattamente eh i due pilastri fondamentali verso cui è diretta la strategia di Nissan Nissan oggi fa dell'elettrificazione e della crossoverizzazione due parti fondanti della della propria strategia del prossimo futuro e quindi la crossoverizzazione e l'elettrificazione sono anche i pilastri che poi vi accompagneranno nel duemilaventitré immagino cosa ci aspettano eh cosa ci aspettano nei prossimi mesi sia dal punto di vista dei nuovi modelli sia dal punto di vista della tecnologia sì bene noi nel duemilaventitré mh abbiamo delle sfide importantissime perché in questo momento come credo forse mai nella storia del marchio Nissan siamo fuori e presenti sul mercato con un'offensiva prodotti incredibile basti pensare che in questo momento tra nuovi prodotti e nuove tecnologie siamo fuori con cinque nuovi lanci cinque nuovi modelli partiamo per esempio dal Juke dal crossover compatto di Nissan ehm oggi presente anche nella motorizzazione full hybrid eh un motore comunque che mh consente di avere eh una efficienza ai massimi livelli eh sul mercato eh considerando che la vettura è in grado di fare fino a novecento chilometri con un pieno di serbatoio e pur mantenendo sempre comunque delle emissioni molto contenuti siamo intorno ai cento quattordici grammi per chilometro il tutto senza trascurare ovviamente i livelli di sicurezza in questo caso siamo al top della sicurezza perché Juke ha ottenuto le cinque stelle Euron Cup eh da Juke passiamo a Qashqai Qashqai è una vettura iconica è modello di punta di di casa Nissan abbiamo parlato appunto prima della tendenza alla crossoverizzazione ebbene Qashqai è stato il pioniere di questa tendenza è stato il pioniere di questa rivoluzione in qualche modo ha trascinato dietro di sé tutto eh il mercato eh spingendo tutti gli altri brand ehm a costruire vetture eh crossover oggi Qashqai oltre alle due motorizzazioni mild hybrid da centoquaranta e centocinquantotto cavalli è presente sul mercato con una nuova motorizzazione una motorizzazione eh e-power quella che Nissan eh chiama e comunica l'elettrico senza spina eh la tecnologia e-power appunto prevede che eh l'unico motore deputato a trainare le ruote sia un motore elettrico quindi parliamo di una guida cento per cento elettrico con tutto ciò che ne comporta quindi un comfort di guida elevatissimo una eh sicurezza eh ai massimi livelli una rumorosità eh molto bassa e così via ovviamente prestazioni emozionalità di guida eh il feeling è proprio esattamente quello di un motore elettrico ehm in più eh c'è un motore termico eh quindi ecco perché senza spina che è l'unico in grado di ehm generare corrente elettrica per la batteria quindi l'unica funzione che ha questo motore è quello di generare corrente elettrica il che significa fondamentalmente che eh viene tolta all'utilizzatore tutta l'ansia della ricarica quindi non ha bisogno non ha una spina non ha bisogno di ricaricare ma per ricaricare la vettura basta fare un pieno ad un tradizionale distributore di benzina anche in questo caso al discorso delle infrastrutture assolutamente no ovviamente in questo caso tutta l'ansia di ricarica ehm è è completamente spazzata via dal fatto che si deve andare un distributore di di benzina e mh dicevo anche in questo caso eh non trascurando anzi tutt'altro che trascurati i livelli di sicurezza anche Qashqai ha ottenuto le cinque stelle brain cup quindi anche qui siamo i massimi livelli di di sicurezza da Qashqai passiamo ad X-Trail X-Trail invece è un è un modello completamente nuovo rispetto al precedente quindi siamo fuori sul mercato con una con in questo caso proprio con un vero e proprio nuovo modello anche esso monta la stessa tecnologia i power di Qashqai quindi il sistema di trazione è esattamente lo stesso quindi il motore elettrico è quello che è deputato a trainare le ruote in questo caso alla alla tecnologia i power di X-Trail è abbinabile anche una tecnologia denominata e-force ed è una tecnologia sofisticatissima di Nissan che eh prevede comunque una trazione integrale una trazione 4x4 legata al fatto che in questo caso nella tecnologia i forze esistono due motori elettrici ciascuno montato su ogni assale della vettura che che sono in grado di dare trazione alle ruote separatamente e in maniera individuale attraverso un sistema elettronico sofisticato che ne gestisce appunto la distribuzione per ogni singola ruota quindi anche qua eh come comfort di guida è un comfort 100% elettrico abbiamo una eh delle prestazioni ottimali in ogni situazione di marcia e anche qui manteniamo comunque dei consumi e delle emissioni molto contenute per il segmento di vettura che rappresenta X-Trail dopo X-Trail passiamo ad Aria Nissan Aria Nissan Aria è il premium crossover 100% elettrico in questo caso parliamo della vettura 100% elettrica e mh e Aria la possiamo definire come il miglior connubio eh della giapponesità di Nissan proprio nel nel momento in cui la vettura è stata concepita tant'è vero che essa porta con sé i due concetti fondamentali dell'essere dell'avere il DNA giapponese ovvero il connubio tra eleganza e semplicità ecco appunto questo viene immediatamente visto sia nelle linee molto pulite molto filanti della vettura e molto eleganti ed è ed è riscontrabile anche eh negli interni che quindi sono molto eleganti e danno comunque una sensazione premium eh di tutto quanto ciò che riguarda eh la strumentazione il cruscotto anche le la qualità delle plastiche quindi qualità interna percepita qualità alta comunque sia parliamo di una di una qualità insomma importante ai massimi livelli per quanto riguarda Nissan eh parliamo sì di qualità di eleganza e ovviamente anche di dotazioni di sicurezza e di eh dotazioni tecnologiche Nissan Aria eh ha la possibilità di essere configurata con due differenti batterie da 63 kilowattora e da 87 kilowattora ciò consente di avere un'autonomia fino a 530 chilometri quindi qui siamo comunque a dei livelli molto molto alti in questo caso parliamo di emissioni zero perché abbiamo detto che è una vettura cento per cento elettrica. Avete già anche una previsione di tempistiche di arrivo sul mercato? Assolutamente sì tutto ciò che vi ho scritto sopra sono tutte vetture già ordinabili presenti sul mercato e quindi già disponibili a ad essere comunque consegnate ai clienti finali. Abbiamo parlato dei veicoli dedicati principalmente a flotte privati quindi veicoli non commerciali se andiamo invece nel segmento dei veicoli commerciali ci sono delle novità che ci possiamo aspettare? Ebbene sì in questo momento ovviamente parlavo dell'offensiva di mercato l'offensiva di mercato include anche il Townstar elettrico in questo caso è un veicolo commerciale compatto quindi perfetto per quello che riguarda le consegne dell'ultimo miglio piuttosto che delle consegne comunque a livello cittadino. Ebbene ecco Townstar elettrico ha la possibilità di avere una batteria da 45 kilowattora che consente di conferire un'autonomia al veicolo di circa 300 chilometri e in più ha la possibilità di avere un vano di carico di circa 4 metri cubi che permette di ospitare molto tranquillamente due europallet e fino a 800 chilogrammi di portata. Quindi insomma pronto a soddisfare quelle che sono le esigenze di lavoro, esigenze insomma specifiche. Abbiamo parlato appunto di flotte visto che ci riferiamo proprio a questo target nello specifico ci sono anche dei servizi che proporrete nel 2023 e che sono proprio tarati su questo tipo di clientela? Ebbene sì abbiamo detto prima che tutte queste nuove tecnologie oggi vanno nella tendenza che sta manifestando e che sta nascendo dal punto di vista del cliente privato. Ovviamente queste tendenze sono anche confermate a maggior ragione anche dalla clientela business che abbiamo parlato di tecnologie ibride, tecnologie a basse emissioni, a bassi livelli di CO2. Sono tutte caratteristiche che oggi vengono richieste da chi acquista un veicolo sia esso privato e soprattutto anche business. Per cui in questo momento noi abbiamo avuto abbiamo sentito forte l'esigenza di creare dei canali di comunicazione proprio appunto per far capire all'utilizzatore, in questo caso ci riferiamo all'utilizzatore business, chi siamo come marchio, cosa vogliamo fare e con quali prodotti vogliamo fare. L'espressione di questa nostra esigenza appunto si è manifestata nella creazione di una pagina LinkedIn, abbiamo creato appunto una pagina LinkedIn chiamata Nissan per il tuo business che tra parentesi io invito tutti coloro che vedranno l'intervista a collegarsi e quindi possono andare su LinkedIn, collegarsi alla pagina e seguire. Quello che troveranno saranno tutta una serie di contenuti legati sì al mondo di Nissan in generale, al mondo Nissan dedicato alle flotte e quindi anche alle persone che sono dietro tutto questo mondo perché ovviamente tutta la strategia fatta di prodotti, fatta di idee non può non essere anche fatta di persone. Il fattore umano, il capitale umano rimane indispensabile. Per cui ecco questo sarà un canale privilegiato che voi alimenterete con quelle che sono poi le notizie relative a questo settore. Esattamente sì, lo stiamo già facendo quindi comunque chi avrà modo di collegarsi troverà già una pagina ricca di contenuti che ovviamente andremo ad ampliare sempre di più a seconda degli eventi che faremo, dei contenuti che avremo a disposizione, dei nuovi modelli che usciranno e delle tecnologie che vogliamo comunicare. E allora vi seguiremo anche su LinkedIn con la promessa di sentirci qui su Fleet Restart. Intanto grazie mille di questa panoramica e insomma ci sentiremo nel corso del 2023 e leggeremo le vostre notizie sul nuovo canale di comunicazione. Grazie. Grazie a voi e non dimenticate Nissan per il tuo business.